Un applauso per i vostri eroi! Esatto, amici! Mi attende una giornata memorabile! A partire da... me! Per finire con un regalo a sorpresa da parte di Plank al recetto! Ora lo sa l'intera canzone! Aspetta, un regalo? E per cosa? Oh, vedrai! Ci aspetta in cima al percorso dell'apparato! Beh, allora è meglio sbrigarsi! Tutto ebbe inizio sul pianeta Veldin quando Ratchet era solo un meccanico bramoso d'avventura! Quella notte la navicella di Plank precipitò dal cielo stellato! Precette soccorse in guerra bot difettoso e... il resto è storia della galassia! Perfetto e... Perfetto! C'erre Di sicuro hanno fatto le cose in grande Davvero, eh... J.P. I nostri eroi spazieranno via questa festosa barricata Come dimenticare l'invasione larga di Kermond Offri a tutti una dimostrazione della tua mira infallibile Oh beh, ora mi mancano soltanto le munizioni Oh beh, ora mi mancano soltanto le mie Ehi, borsi, ho trovato il Lombax Questa è la rievocazione A tagliarsi di crisi Hai una succulenta, taglia sulla testa, Lombax Ratchet, non credo che faccia parte dello spettacolo Ah, sì, proiettili veri Mi li ho assunti così Non so voi, ma io adoro le sorprese Qualcuno ha messo una taglia su di noi? Spero non riguardi il tuo regalo Presto dobbiamo arrivare in fondo al percorso della parata Attivo i magni e scarponi Porta, continuiamo lo show Da un passaggio È finita la parte dei saluti e dei sorrisi, eh? Scommetto che è opera dei lago O dei kragmiti O del... Oh, non torne farlo Impossibile Vaglius è fuori gioco ormai da chissà quanto E ora i nostri eroi attraverseranno questa artificiosa scia di palloncini Benvenuti, su Malis, occhio a quegli smandati dei pezzi Forza, robobastini Proprio come i vecchi tempi, non è vero? Proprio come i vecchi tempi, non è vero? I nostri eroi hanno diretti tutto il nemico Ora mi aspetta Guarda, possiamo planare Ci sono altri sgherri lì Muoviamoci, prima che qualcuno si faccia male Oh no, i misteri del grande urologio Qui avrei dovuto recitare un monologo introspettivo Alla prossima Arriba! Struggiamo la navetta e facciamola finita. Un po' arrugginito, ma bevevo peggio. E' finito. E ora, torniamo alla storia del nostro grande eroe, Ratchet, l'ultimo Lombax conosciuto, da cui specie è ormai venuta in un'altra dimensione e che oggi riceverà un misterioso regalo dal mag. Un po' arrugginito. Un po' arrugginito. Un po' arrugginito. Un po' arrugginito. Mi ero preparato un discorso, ma visto che la parata sembra essere sotto attacco, andrò dritto al punto. Ratchet, non so dove sarei adesso senza di te. Sei il mio migliore amico. Il mio socio. Hai sacrificato molto per... Ho riparato il dimensionatore. Potrei attraversare le dimensioni e trovare la tua famiglia. Oh, beh, vedi... Cosa? Il dottor Nefarius. Ratchet e Clank. Che magnifica sorpresa. Non mi aspettavo certo di trovarvi qui, visto che i miei sgherri avrebbero dovuto annientarvi ben otto minuti fa. Oh. Che cosa vuoi, Nefarius? Ecco. Perché non stampano più le istruzioni? Ah! 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 Non possiamo assolutamente togliere il dimensionatore dalle mani di Nefarious! Sì, è in fretta. Qualunque cosa abbia niente non può essere nulla di buono. Ho deciso di renderti a consigliato, Max! Siete ancora qui? Ma cerco! Come potrebbe essere altrimenti? Allora, stai! È il minimo che potessi aspettarmi da Nefarious. Non prendertela. In fondo sarà come ai vecchi tempi. Forza! Nefarious deve essere vicino alla stazione dei treni. Oh, Lady Zurkon! Prendiamo un'arma. Ti serve un'arma? Lady Zurkon ha quello che c'è. Secondo te, cosa c'è di meglio di ammirare le esplosioni? Scagliarle direttamente dalle tue maledette brane! Premi il letto di fuoco a metà corsa per prendere la mira. Oppure, qualora tu vada di fretta, premilo fino in fondo e apri le vanneze! Ponto! Boom! È il suono della pura potenza! E? Del castigatore! Con la sua doppia canna di dolce, pura, purissima devastazione! Premi il letto di fuoco a metà corsa per sparare da una sola canna! Oppure, se hai molta fiducia nelle tue capacità, premi fino in fondo per raddoppiare il divertimento! Boom! Con la sua doppia canna di dolce! E? 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 Ahaha! Ahaha! E' l'ultimo! Il freno sta partendo! Andiamo! Ahaha! 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 Ahaha!